C'è grandissima gioia, ma soprattutto per la partita che abbiamo disputato. Non abbiamo mollato su un singolo pallone, siamo stati lì, abbiamo fatto una grandissima partita di squadra e siamo molto soddisfatti per questo. Non ci dobbiamo accontentare naturalmente perché giovedì c'è un'altra battaglia e andremo lì per vincere. Ti chiedo anche in uno stadio come questo qual è stata la tua emozione personale dopo questo gol? Sì, è una grandissima emozione. Al di là del gol, come ho detto davvero io, cerco di lavorare per la squadra, di fare quello che mi chiedono i compagni e l'allenatore. Poi è arrivato il gol e sono molto contento per questo. Poi soprattutto in questo stadio, pieno di gente, una semifinale europea, è proprio una bellissima emozione. C'è da stringere i tempi in queste ultime partite, prima il campionato, poi la Coppa, però l'importante è mantenere lo spirito di queste serate. Sì, come hai detto te, è importante lo spirito e la concentrazione perché soprattutto nelle partite europee se cali un attimo poi rischi di andare in difficoltà. Noi dobbiamo essere concentrati su tutte le partite che rimangono e fare quello che facciamo sempre, cioè pensare partita per partita e alla fine tireremo i conti.